Al che è dovenuto per essersi liberato da alcuni presupposti falsi della comune e volgare filosofia, non voglio dire cecità. Quindi appunto la comune e volgare filosofia, che in realtà andrebbe chiamata cecità, dice Giordano Bruno, si muoveva fino a prima di Copernico in tutta una serie di pregiudizi e di falsità di luoghi comuni che è merito di Copernico, mediante la sua teoria, aver destrutturato. Ma però non se n'è molto allontanato, perché lui, più studioso della matematica che della natura, non ha possuto profondare e penetrarsi in tanto che potesse affatto toglier via la radice dei inconvenienti e vani principi, onde perfettamente sciogliesse tutte le contrarie difficoltà e venesse a liberare e sé ed altri da tante vane inquisizioni e fermare la contemplazione nelle cose costante e certe. Appunto, ci sta dicendo qui Giordano Bruno, tra le righe, che Copernico è più un matematico che un osservatore della natura, il suo modello geometrizzante, matematico, che si basa, a differenza di quello galileiano, che sarà fondato, come sapete, sull'osservazione, sulle sensate esperienze, appunto, su un modello osservativo, scientifico, quello copernicano invece è un modello, potremmo dire, geometrizzante, basato su calcoli matematici, più che su un'osservazione diretta della natura. Ad ogni modo, dice Bruno, la grandezza di Copernico sta nell'aver, da un punto di vista matematico, posto le basi per la distruzione di quella cecità che impropriamente si chiama filosofia e che si basa, poi in realtà si basava storicamente, su tutta una serie di luoghi comuni e di errori. Copernico non li ha dissolti fino in fondo, ci sta dicendo Teofilo, e quindi Bruno per bocca di Teofilo. Ha però posto le premesse perché si potessero sradicare, che è quello che esattamente aspira a fare Giordano Bruno. Con tutto ciò, chi potrà pieno lodare la magnanimità di questo Germano, il quale, avendo poco riguardo alla stolta moltitudine, è stato si saldo contro il torrente della contraria fede, e benché quasi inerme di vive ragioni, ripigliando quegli abbietti e rugginosi fragmenti che ha possuto aver per le mani dell'antiquità, le ha ripoliti, accozzati e risaldati, intanto, con quel suo più matematico che natural discorso, caresa la causa già ridicola, abietta e vilipesa, onorata, pregiata, più verisimile che la contraria, è certissimamente più comoda e dispedita per la teorica e ragione calcolatoria. Qui c'è un elogio totale del Germano, cioè di Copernico, che viene valorizzato contro l'opinione della stolta moltitudine. Vedete il timbro aristocratico di Bruno, a cui facevamo riferimento anche questa mattina. La stolta moltitudine si orienta secondo un modo di pensare falso, che però non consente pensieri diversi, potremmo dire, che subito incappa nella censura e in quelle accuse in cui poi finirà per essere coinvolto lo stesso Giordano Bruno. È stato appunto in qualche misura Copernico un alleato della giusta causa che anche ora Giordano Bruno sta sostenendo. Vedete che ritorna il tema della maggiore pregnanza matematica che è fisica e astronomica del discorso di Copernico. Dice Giordano Bruno, quel suo più matematico che natural discorso, più matematico che natural discorso, che ha in qualche misura ripulito tutti i frammenti del passato e che ha in qualche misura, fa dicendo, reso ridicola la causa contraria, quella del volgo e della moltitudine.